Ascoltaci, Signore. 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 Amén. Ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Amén. 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 E Gesù propugnete il suo padre di questa relazione che i figli hanno in fronte di questo padre che entrano insieme ai figli che fanno delle cose perché dal padre non sa di uscire qualcosa e non intattare con lui. E questo padre è un amore con il suo padre. E vorranno, come la nostra natione, non rivedere la nostra relazione. Perché facciamo delle cose? È un amore di Dio, di Dio, di Dio, di Dio. E grazie a tutti i nostri mancanzi e a tutti i nostri fragilità. Il Vangelo ci mostra come il tuo padre, come fare noi il mio, che è un formone per i figli. E lo figlio è quello che non lo chiede a dire, è che Dio non lo chiede a fare. Come rivedremo il suo padre, faccio vedere come il tuo padre, non senta niente. Dio, non c'è che non c'è il problema, ma non c'è quello che fa, ma non c'è quello che fa, ma non c'è quello che fa, ma non c'è quello che fa. Questo è il problema. Possiamo concedere per dire scuse per il problema di comunicazione di manifestazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.